Buongiorno! Buongiorno! Ciao! Siamo molto svegli stamattina Si può partire Io sono regice da una salata Particolarmente sveglia Mi stiamo andando a raggiungere da Ponte Arano Ponte Arano, provincia di Pietta Il nostro partito è con Francesco Secchi Non ce l'è mai Non poteva mancare Sarà il vento e l'ultimo Siamo arrivati a Ponte Arano Per quello che riguarda il mio mese E' l'ultimo di quest'anno Il prossimo weekend avremo invece a Ponte Arano In provincia di Cuneo Con la casa dietro, mentre oggi non ce l'aviamo E poi per quest'anno abbiamo visto Siamo molto contenta Vediamo quello che ci aspetta Ci vediamo dopo Ciao! Ciao!